Urgofans, buongiorno. Oggi è una giornata particolare. Siamo nella zona di Oristano. La zona di Oristano gode di un clima in gennaio. Voi direte che non siamo più in gennaio, siamo quasi in febbraio. Però quest'anno è un po' tardivo. Ma a Oristano ci sono le secche di gennaio che durano all'incirca 15 giorni. Per cui il teppore primaverile arriva molto prima che da un'altra parte. E cosa succede quando c'è il teppore primaverile? Che gli asparagi vengono fuori prima. Abbiamo questa fortuna che gli asparagi vengono fuori prima. Non sono molto robusti. Però sono belli, sono morbidi. Guardate. Vedete? Questi sono tenerissimi. Questi si possono mangiare anche i crudi, con un po' di sale. Si possono mangiare anche i crudi. Tornando al fattore clima, c'è anche il gallo che canta. Siamo proprio attorniati da quello che piace a voi, dalla natura incontaminata. Io cerco di tenere il posto più pulito possibile. Bene, continuiamo a vedere perché ci devono essere tanti asparagi qui. C'è... Io non ce n'è. Ciao. Andiamo avanti vedendo. Intanto un buongiorno a tutti. Una buona giornata. Io vi ringrazio sempre per il fatto che mi seguite nei social perché dimostrate un'assidua presenza di commenti che mi fate per ogni cosa che appare. Tutte le stelline, i cuoricini che mi mandate, i bacini, tutte queste cose, i pollicini e tutta una cosa, un insieme di cose. Quindi oggi dobbiamo vedere che fine fanno gli asparagi. Venite con me piano piano. qui ce n'è un altro. Eccolo qua. Ci sono dei punti dove io li trovo anche a grappoli. Ecco, guardate questo incanto. Questo è un grappolo. Guardate che bello. Vado cercando la parte più morbida. Guardate. Guardate. Questa è... Questo è il miracolo di avere in casa gli asparagi. Guardate. L'asparago va mangiato in diversi modi. Intanto io ringrazio tutti quelli che mi mandano quei bei commenti, parlando della campagna, di quello che non avete voi perché vivete in una città, perché siete lontani dai vostri affetti. Ecco, io vi ringrazio. Ecco, vedete, guardate un po'. Eh? Guardate. Venite, venite. Vediamo. Vediamo perché. Venite Urgufan. Venite. Guardate. Guardate. Vedete questi qua. Eccoli qua. Non sono molto... molto robusti però è l'asparago selvatico. La bontà dell'asparago selvatico. che... La bontà. Le valsamo... Amore, a che hai do? Quando ero giovanissimo, che lavoravo in campagna con mio padre, queste cose c'erano e ci sono anche oggi, si andava a prenderli in altri posti dove è più soleggiato, dove l'asparago diventa bello robusto e nero, questi vedete sono bianchi perché non prendono sole, però sono buonissimi. Qui ce n'è uno arrampicato all'albero, guardate che bello, questo è tutto attorcigliato all'albero, vedete, altri tre, guardate che bello, e ce ne sono altri qua, ce n'è un altro qui, e mano a mano si fa il mazzetto, eh si, vedete, e qui c'è già un buon risotto, c'è come, che ne so, il sughetto per la pasta asciutta, si possono mangiare arrosto, nella graticola messi così, eh? poi quando li abbiamo abbrostoliti un pochino ci butta un po' di olio buono, un pizzico di sale, non tanto, e queste cose sono cose che fanno molto bene, l'asparago fa bene ai veni, infatti quando mangiamo gli asparagi, dopo un po' che andiamo a fare la plin plin, qualcuno la chiama plin plin, apisciai, quando andiamo a pisciare si sente questo odore caratteristico dell'asparago, ed è una pulizia che è adatto al nostro corpo, eh? Adesso venite con me, ce ne sono altri due molto belli, guardate, uno e due, questi sono già scuri perché prendono il sole, ecco adesso rientriamo perché sta fiovendo, quindi ci spostiamo, andiamo a casa, eh? Grazie dell'attenzione, venite presso a me, poi vi faccio vedere che fine fanno. Allora, una volta che voi avete gli asparagi, che li avete pronti per cucinarli, il lavoro da fare è cercare di tagliare la asparagi nella parte più morbida, dove spezza, cercate il punto, eccolo qua, questo rimane un po' più duro e quindi viene lasciato, viene buttato via, quindi ripeto, si prende la parte, si va dove spezza, eccolo qua, la parte in cui spezza è la parte morbida, si fa per comodità, ecco vedete, si spezza in quel punto, in quel determinato punto, io vado avanti così, finché si spezza, vedete, questa è la parte morbida, ed è molto importante la sensibilità, andare avanti, eccolo qua, vedete, il pezzo che rimane è la parte dura, vedete, sembra una cosa magica, invece è magica, vedete, camminare avanti così, rimane la parte morbida, ve lo faccio vedere più volte così, partite da qui tenendo stretto, quando si spezza, è pronto, è quel punto preciso, queste cose, molte massaier non lo sanno, eccolo qua, vedete, questa è la parte dura, vedete, infatti, non ha, non ha, è una flessibilità, ecco, guardate, è magico, è un tocco magico, camminiamo avanti, eccolo qua, stiamo iniziando la nostra sorpresa, sì, eccolo qua, facciamo un po e questa è tutta sorpresa guardate la bellezza di queste cose qua eccolo cosa le dite? cosa le dite? io sono meravigliato di questo incanto ma anche voi però aggiungiamo un pizzico di sale cosa ne dite? si vede che ci sono uova in più quindi non preoccupatevi mangia anche lei la signora Anita ok? io adesso vi ho fatto vedere più o meno come si fa a casa vostra potete farlo tranquillamente proprio calmi calmi gustandovi il fare del fare questo movimento per far sì che anche la chiara venga cotta nella maniera giusta cosa le dite? e vi posso garantire che è gustosissima è gustosissima naturalmente gli asparagi si possono fare anche arrosto messi sulla graticola fatti a brostolire bene senza bruciarli e poi in un piatto un pizzico di sale e olio e sono eccezionali qui siamo pronti signori miei eccolo qua una giratina perché ci può essere qualche rimasulio della chiara che non è cotta bene ecco e il piatto è pronto è servito il pane qui ha riscaldato vedete? il pane è riscaldato adesso è quasi è pronto a tavolo il coltellino per far sì che eccolo qua questo per chi è? per Anita eh? allora andiamo immediatamente a assaggiare non riesco a parlare il pane croccante mi dovete scusare non riesco a parlare da germinità le uova della galina bianca il chicchiricchi del gallo nero salute alla vostra è incredibile un altro pezzettino no non ve lo immaginate so sparavo davvero so sparavo amici cosa dirvi? io vi ringrazio per l'attenzione goletevi questa festa questa questa è la parte di Anita grazie un abbraccio vi ringrazio per tutti i saluti che mi mandate per i commenti per le cose un abbraccio forte ciao ciao a tutti grazie a tutti